Ciao, mi chiamo Antonio Carmelini, ho 42 anni, sono biologo nutrizionista, ho un background su Colastico, ho studiato la Biologia e la Nutrizione negli Stati Uniti e ho la mia attività commerciale inoltre alla nutrizione e all'alimentazione. Ho frequentato questo corso principalmente per curiosità, vedendo su Instagram i vari spot e perché mi piace molto l'approccio che usa questo ragazzo nella presentazione, nella spiegazione e nel libro. Trovo il corso estremamente interessante, molto approfondito, molto tecnico, in certi passi molto complicato, molto difficile per magari dei soggetti principianti, però in congiunzione con il libro trovo che sia stato sicuramente un'esperienza notevole e sia un notevole fattore di crescita per una persona come me che lavora in questo ambito e con il suo settore. Grazie.